Capitano medico dell'esercito italiano Diletta Luisi, lei è fra i medici in supporto della 132esima brigata Corazzata Ariete, qui a Sciama quindi anche una donna straordinaria sia per la qualità del lavoro che qui svolge che anche per la presenza così dolce alla base. Lei qui, la sua attività è dedicata sia ai civili, cioè sia ai militari presenti qui alla base che ai civili però, no? Sì, l'attività si svolge dando un supporto sia ai soldati, quindi le prime cure eventualmente e anche il trasferimento nelle basi più avanzate sia al personale civile che viene all'interno della base quindi noi provvediamo a dargli le prime cure, sia anche le cure che noi facciamo all'esterno sotto forma di medical care andando nei villaggi, andando a portare un po' una mano, un aiuto quindi alle popolazioni qui presenti. Quali sono le prestazioni a cui è più spesso chiamata a effettuare? Diciamo che per quanto riguarda il personale civile, per lo più vista la mia specializzazione in ginecologia sul versante delle donne, quindi la richiesta soprattutto da parte delle donne, visto che qui c'è una religione che è un po' diciamo funge da ostacolo nell'approcciarsi da un punto di vista medico alle donne al vero è un medico donna per loro molto importante, quindi si tratta di patologie tipiche delle donne ma anche mi è capitato di soccorrere delle donne in stato di gravidanza. E poi i bambini, i bambini che hanno quelle malattie un po' rare dalle nostre parti mi è capitato di vedere i bambini con la leishmaniosi oppure di curare e suturare dei bambini che si erano feriti, quindi mettere anche questi punti di sutura a questi bambini anche dai tre anni in su. Mi hanno detto che ha appena effettuato da pochi giorni insomma un intervento abbastanza d'emergenza una donna portata dal marito qui. Sì, era una donna che aveva appunto avuto una puntura di un insetto che stava andando in sciocca anafilattico, noi siamo intervenuti, insomma l'abbiamo rianimata l'abbiamo restituita alle cure del marito, diciamo così, e quindi gli abbiamo dato questo supporto. Era cristiana maronita, sciita o musulmana sunita? Di che religione era? Ma penso musulmana, però non abbiamo avuto modo di chiederlo, sì sicuramente musulmana. E senta, lei dirige anche, se non ho capito male, il progetto Arianna. Può inquadrare in sintesi di che cosa si tratta? Il progetto Arianna è un progetto sulla base di una legislazione italiana e poi internazionale che prevede l'analisi chimico-fisica e batteriologica delle acque potabili, quindi per valutare la potabilizzazione delle acque sia all'interno della base di Sciama dove noi siamo sia nelle basi di tutto l'Ovest del Libano. Quindi effettuiamo dei prelievi dell'acqua in condizioni di sterilità andando a flambare i rubinetti prima di poter prelevare l'acqua con dei contenitori ad hoc sia per l'esame chimico che per l'esame microbiologico. E poi questi li realizziamo all'interno di due laboratori che abbiamo qui nella base. E poi una cadenza abbastanza settimanale per poter garantire una sicurezza nell'utilizzo dell'acqua ai nostri soldati.